ah ecco l'abbiamo ripreso ci abbiamo fatto adesso è un momento fatidico che devo prendere la pistolina rinnoviniamo al finale wow anche appesso il mio palco ecco Price sto negro ci tiene un calcio wow non farei negro ecco Price che combatte boom dai cazzo però su sti cazzo di negro dai che Price è più forte su dai che è così finito il video dai cristo non ci su remix ma dai lo so meglio di te adesso riesce il fiango se non gli miriamo la faccia lo becco ugualmente lol è uscito sangue molta la sangue come si dice sui sonni ecco ecco e guardate abbiamo una mira talmente di merda che lo beviamo lo stesso bomb nell'occhio volete provare a prendere un coltello dell'occhio e dello chef Tony? vediamo com'è ecco adesso ma questo sai che cos'è? è la mappa che figa è la mappa multiplayer di quel negro è vero però non c'è l'acqua c'è mica c'è l'acqua di fatto e ma perchè è chiuso e dice girati e ma perchè è chiuso tutto cioè e quando ti guardi il mio dito c'è e il mio terzo dito qui ed ecco Price si si rianima mentre tu adesso va vi vogliamo rovinare il finale perchè non abbiamo un cazzo da fare se sei il mio terzo dico vieni ho il mio terzo dico mi guarda vieni livello 2 livello ecco un cobray ecco un cobray ecco finito il gioco un applauso anche un abbraccio dai diso bello